6 persone sono morte a causa del coronavirus e 350.000 sono state curate per sintomi con febbre in Corea del Nord, secondo quanto fatto trapelare dai media statali all'indomani del riconoscimento di un focolaio per la prima volta nella pandemia. Il paese non dispone di sufficienti tamponi e altre attrezzature mediche, oltre a vantare un sistema di assistenza sanitaria in crisi e una popolazione malnutrita e non vaccinata.